Montesterminator Vesevo Dalla storia alle tradizioni Tutto racchiuso in un percorso emozionale Fatto di parole e immagini Per far conoscere e valorizzare La città di Torre del Greco Ieri nella sala consigliare di Palazzo Baronale La presentazione alla stampa Dello spot istituzionale del Comune Realizzato da TV City Nell'ambito del progetto Raccontiamo Torre del Greco Fortemente voluto dall'amministrazione comunale Come strumento di promozione turistica Sessore Enrico Pensati Torre del Greco La città delle meraviglie Oggi qui a Palazzo Baronale La presentazione dello spot istituzionale Della città di Torre del Greco Sono oltre un trentennio Che almeno lamentiamo le stesse difficoltà Chiaramente ogni amministrazione Che in questi anni si è succeduta Ha provato a piccoli passi A migliorarne le sorti Noi oggi abbiamo voluto fare un'operazione inversa Abbiamo voluto mettere in evidenza Quelle che invece sono le bellezze La comunicazione e il marketing Come strumenti di promozione turistica Questo video splendidamente realizzato da Media City Colgo l'occasione per ringraziare voi tutti di TV City Andrà in quelle che saranno le fiere E le mostre nazionali ed internazionali Dei vari settori Sarà uno spot per la nostra città Perché Torre del Greco non è soltanto difficoltà Ma davvero è un sito integrato Bellissimo fatto da Vesuvio e mare Che dobbiamo assolutamente veicolare al meglio Finalmente stiamo iniziando a sponsorizzare la nostra città Anche per le tante meraviglie che ci sono Vogliamo iniziare da questi video Da questo lavoro che è stato fatto egregiamente da Media City E fortemente voluto dall'amministrazione Per poi andare avanti con ulteriori lavori Sempre più dettagliati E sempre più a livello internazionale Questo è il nostro primo passo Per far conoscere la nostra città al mondo Non rimanere più all'interno dell'ambito locale e regionale Ma uscire fuori Arrivare a quelle che sono le fiere internazionali Alle quali il nostro comune comunque partecipa Con quello che è il Corallo Con i Cammei E far conoscere anche durante queste manifestazioni così importanti Tutte le nostre bellezze Dunque questi video adesso saranno veicolati all'esterno Per rappresentare nel mondo la città di Torre del Greco In collaborazione con l'assessorato regionale Proveremo ad uscire sia a livello nazionale che internazionale Durante quelle che sono fiere, manifestazioni, eventi Che si terranno nel mondo E che vedranno presente anche la nostra regione Finalmente abbiamo dato voce alle bellezze del nostro territorio Alle specialità gastronomiche Alle capacità degli artigiani e degli incisori Alle potenzialità che il territorio conserva Oggi io però sono particolarmente contento di questa presentazione in aula consigliare Perché ho raccolto le sinergie del meglio di Torre del Greco Per quanto riguarda la specificità di cui stiamo parlando Nel riunirsi e riuscire a dare un prodotto veramente di altissimo livello E questo ci insegna che la sinergia delle menti O delle capacità migliori che noi conserviamo E sono tante, se riusciamo ad esaltarle Ci danno dei risultati che sono assolutamente brillanti La comunicazione resta tuttavia uno strumento importantissimo In questa ottica di promozione turistica E con l'intento appunto di creare un vero e proprio circuito turistico su questo territorio Infatti la comunicazione è importante Perché senza comunicazione non c'è conoscenza Quindi se non la conosciamo noi che siamo di Torre Come facciamo a illustrarla a chi deve venire a trovare Diciamo a visitare Torre del Greco Perché l'idea è venire a accogliere i turisti E farli visitare le nostre bellezze Il nostro è un museo all'aperto Il centro storico, tutto il centro storico Quindi quale migliore opportunità se non sfruttare questa occasione Un viaggio alla scoperta delle bellezze di una terra unica Discover Torre del Greco The city of wonder Io le mostro